L'aglio è un alimento noto fin dall'antichità per i suoi benefici per il corpo umano ed è spesso usato per migliorare la salute e insaporire i passi. Gli effetti positivi dell'aglio, che è un antibiotico naturale, non si esauriscono con il conteggio e la ricerca, rivela ogni giorno un nuovo beneficio. L'aglio, che fornisce incredibili benefici al nostro organismo grazie alle sue proprietà antibatteriche, fa bene a molte malattie metaboliche, se consumato al momento e nella giusta quantità. Quali sono i vantaggi del consumo di aglio? Quando e quanto dovrebbe essere consumato? Esaminiamo insieme. Puoi iscriverti gratuitamente al nostro canale prima di passare ai vantaggi. Siamo qui con un nuovo video informativo ogni giorno. Quali sono i vantaggi di consumare solo 3 spicchi d'aglio al giorno? L'aglio ha effetti molto importanti nella normalizzazione della pressione sanguigna alleviando la contrazione e la tensione nelle vene. Questo alimento è ricco di flavonoidi, noti per i loro effetti positivi, nella regolazione dei livelli di colesterolo nel sangue. Lo zolfo nel suo contenuto aiuta a prevenire l'accumulo di placca nelle vene, mostrando un effetto fluidificante del sangue e combatte l'infiammazione nelle vene. Allo stesso tempo, gli effetti antiossidanti e antinfiammatori dell'aglio purificano l'intero apparato digerente da tossine e batteri. I composti di allicina nel suo contenuto hanno proprietà letali contro tutti i parassiti dell'apparato digerente. È una ricca fonte di probiotici che migliorano i batteri benefici nell'intestino e apportano benefici al sistema immunitario. Il consumo di aglio migliora tutte le attività digestive aumentando il numero di batteri benefici nel corpo. Oltre a tutti i suoi effetti positivi, funge da scudo contro fattori microbiologici come batteri, funghi e virus. Due spicchi d'aglio possono soddisfare il 10% del fabbisogno giornaliero di vitamina C di una persona. Come antiossidante, la vitamina C lavora con altri composti per aumentare la resistenza del nostro corpo alle malattie batteriche e virali. Inoltre, l'alto contenuto di vitamina C aiuta a prevenire la perdita d'acqua causata da squilibri idrici durante i periodi di febbre. Allo stesso tempo, la pettina che contiene aiuta a bilanciare la glicemia e fornisce protezione contro gli squilibri di zucchero. Grazie ai composti che contiene, l'aglio previene il processo di formazione della glicazione nel corpo. Aiuta a mantenere la glicemia ai livelli desiderati ed è efficace nel prevenire complicazioni come neuropatia e neuropatia, che sono comuni nel diabete. Aglio per muscoli e tessuto osseo più sano. Questo nutriente riduce il dolore sia acuto che cronico, poiché contiene composti benefici che agiscono per la protezione delle ossa e del tessuto articolare. È utile per molti problemi fisiologici come lesioni muscolari dovute all'impatto e danni al tessuto osseo. Inoltre, gli antiossidanti naturali assunti nel corpo contro le cellule cancerose sono molto importanti. Le vitamine C e D, che sono tra i più importanti antiossidanti, e il minerale selenio sono abbondanti nell'aglio. È anche un potentissimo antiossidante grazie ai composti fenolici che contiene, aiutando così il nostro corpo a prevenire molti tipi di cancro. Quindi, ci sono effetti collaterali dell'aglio? Innanzitutto, l'aglio è un alimento dalle altissime proprietà antivirali e antimicrobiche. Non appena entra nel corpo, inizia a purificare il sistema digestivo. Tuttavia, se viene consumato in quantità abbondanti ed eccessive, questa situazione diventa negativa. Le sue proprietà antimicrobiche, provocano irritazioni al tratto digerente e creano una sensazione di disagio. Pertanto, è molto importante impostare correttamente la quantità di consumo. L'aglio può aumentare l'effetto dei farmaci che fluidificano il sangue. Per questo motivo, le persone che fanno uso costante di droghe dovrebbero consultare il proprio medico prima di consumare aglio e succo d'aglio. Quindi, quanto aglio dovrebbe essere consumato? Gli esperti affermano che due spicchi d'aglio aggiunti alle insalate o ai pasti, due a tre giorni alla settimana, sono molto utili per questi individui sani. Alla luce di queste informazioni, puoi aggiungere l'aglio alla tua dieta e beneficiare dei suoi benefici a lungo termine. Se ti piace il nostro video, non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al nostro canale se non sei ancora iscrivito. Stai al sicuro. Tieniti informato. Stai al sicuro.